Eminenza, io non sono felice. Perché dovrebbe essere felice? Il suo compito non è questo. Chi le ha detto che si viene al mondo per essere felici? Dice Origene, nelle sue omelie, extra ecclesiam nulla salus. Fuori della Chiesa non c'è salvezza. Extra ecclesiam neemu salvatur. Fuori dalla Chiesa nessuno si salverà. Salus extra ecclesiam non est. Non c'è salvezza fuori dalla Chiesa. Civitas Dei Chi non è nella Civitas Dei appartiene alla Civitas Diaboli Grazie 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 a tutti.